La rintelatura di un quadro, detta anche foderatura, è un'operazione di restauro che viene eseguita sui dipinti su tela. Nella maggior parte dei quadri, a partire dal 400-500, il pittore usa come base su cui dipingere una tela fatta di lino, canapa, iuta o di altri materiali. Questa tela è un materiale organico e tende a deperire nel corso del tempo, tende a usurarsi e perde le sue proprietà. Si assottiglia, diventa più rigida e rischia di strapparsi. La rintelatura è un'operazione con cui il restauratore aggiunge una nuova tela mediante incollatura, rispettando opportune procedure nel retro del quadro per irrobustire la tela originaria.